E' inutile che ci giriamo tanto intorno. Una delle cose che ci interessano maggiormente quando utilizziamo il PC è che questo sia bello, reattivo ed abbastanza veloce. A nessuno fa piacere fare un click e dover aspettare dei minuti prima di vederne l'effetto. In passato su questo canale abbiamo visto diversi software che ci consentono di ottimizzare anche molto efficacemente le nostre macchine e tra questi alcuni che riguardavano la gestione della RAM. Tuttavia devo dire che continuando a fare una serie di test e a provare diversi programmi ne ho trovato uno che a mio avviso si trova per vari motivi che vedremo decisamente una spanna al di sopra rispetto agli altri. Si tratta di un programma naturalmente gratuito, portable, estremamente leggero e quindi più leggero di tutti quelli provati in precedenza, configurabile ed estremamente facile da utilizzare. Insomma un programma sicuramente da provare e che può portare infiniti vantaggi alle prestazioni del nostro computer. E allora non perdiamo tempo e andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Nel caso in cui te lo stessi chiedendo ebbene sì sono tornato al maglioncino. Dopo aver girato qualche video in manica di camicia confidando in un aprile molto mite questa mattina a Genova è calato un freddo becco che ad abundanzia ma si è anche fatto accompagnare dalla neve e quindi abbiamo tutte le cime dei monti intorno innevate. Insomma buon Natale! Ma torniamo a noi. Quello che sto per mostrarti oggi è un programma simile a quelli che abbiamo visto in precedenza ma che come vedremo presenta degli innegabili vantaggi. E allora bando alle ciance e andiamo subitissimo a scaricarlo. Per farlo apriamo come sempre il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andiamo a digitare gentiluomodigitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito e nella parte in alto scegliamo la sezione downloads. Nella pagina che si aprirà scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download, quello che si chiama Reduce Memory. Nome che non mi piace affatto perché sembra che questo software faccia esattamente l'opposto di quello che realmente fa. Per scaricarlo facciamo clic sul pulsante File Download. Vedremo che il download partirà sul nostro computer e verrà terminato in pochi secondi. Una volta scaricato facciamo clic su questo pulsante per andare ad aprire la cartella che lo contiene e potremo chiudere la finestra del browser retrostante. Come vedi all'interno della cartella è presente un singolo file. Quello che dobbiamo fare è un doppio clic su di esso vedrai che si troverà al suo interno una cartella che potremo comodamente prendere e trascinare sul nostro desktop. Fatto questo potremo chiudere la cartella compressa che non ci serve più e da aprire la cartella appena creata. Al suo interno vedrai che ci sono in particolar modo due file eseguibili. Il primo si chiama Reduce Memory.exe, il secondo Reduce Memory underscore x64.exe. Come sempre nel caso di sistemi a 32 bit il file da aprire sarà Reduce Memory.exe. Nel caso invece di sistemi a 64 bit come ad esempio Windows 11 che sto utilizzando in questo momento dovremo aprire il secondo file. Prima di continuare tuttavia vorrei mostrarti una piccola cosa e per farlo premo la combinazione di tasti CTRL, SHIFT e DESK sulla mia tastiera in modo da mostrarti la situazione attuale della mia memoria RAM. Sposto un pochino la cartella in modo che siano visibili entrambe e vediamo che a fronte di soli 4 giga presenti su questa macchina virtuale che sto utilizzando di cui sono appunto occupati il 50 per cento nel momento in cui vado ad aprire questo programmino l'occupazione di RAM resta praticamente assolutamente invariata e quindi questo programma non va letteralmente a rubare risorse nell'ambito del computer. Chiudo la cartella retrostante che non ci serve più e ti mostro il modo basico di utilizzare questo software che consiste banalmente e semplicemente nel cliccare sul pulsante ottimizza. Nel momento in cui lo farò tuttavia ti invito a dare un'occhiata a come si modificherà il grafico sulla sinistra. Clicco su ottimizza, veniamo informati che sono stati liberati 214 mega di RAM e come puoi vedere l'occupazione della memoria è scesa da metà a quasi un terzo. Ho lasciato trascorrere 5 minuti semplicemente per mostrarti una cosa ovvero che nonostante che sia passato del tempo quelle risorse che sono state liberate da questo programma non vengono più occupate. Infatti a fronte di un 38 per cento l'occupazione è salita solo ad un 40 per cento praticamente fisiologico dato che alcuni processi vengono continuamente chiusi ed aperti sui nostri sistemi. Vado a chiudere questa finestra e mi sposto invece sulla voce opzioni in modo da farti vedere come configurare adeguatamente questo software. Quasi sicuramente la prima cosa che vorremmo sarà che questo venga avviato automaticamente all'avvio di Windows. Per farlo ci basterà spuntare questa prima casellina. Potremmo scegliere di non vedere la finestra in fase di avvio e quindi spuntare anche la seconda casellina quindi di ridurla automaticamente sotto forma di icona come vedremo a brevissimo nella barra di stato spuntando la terza voce mentre il mio suggerimento è quello di togliere il segno di spunta dalla quarta voce per evitare che questa finestra si vada quando è aperta a sovrapporre a tutte le altre. Eccomi qua. Infatti nel momento in cui questo programma è aperto in basso a destra nel system tray cioè sotto questa frecciolina potremo individuare la sua icona che oltre a dirci a colpo d'occhio quanta ram è occupata e nel momento in cui ci andremo su con il puntatore del mouse come sto facendo io dirci esattamente la percentuale facendo un solo clic su di essa potremo aprire la finestra principale del programma. Torno nel mio angolino solito per mostrarti invece le altre opzioni che sono davvero interessanti. Quindi a parte la possibilità di scegliere altri set di icone per personalizzare appunto l'icona che si trova in basso nel system tray una cosa importantissima che possiamo fare è andare ad impostare una soglia per l'ottimizzazione automatica della memoria. Nel momento infatti in cui abbiamo scelto di eseguire automaticamente all'avvio di windows questo programma potremo andare ad impostare un valore di soglia io ti consiglio l'85 per cento che va bene nella maggior parte dei casi ma potrai modificarlo a piacimento tramite lo scorrimento di questo slider ed andare anche ad impostare un intervallo espresso in secondi trascorsi i quali effettuare automaticamente l'ottimizzazione della memoria. In questo caso mi sembra che 15 secondi siano un tempo davvero eccessivo una buona idea può essere ad esempio invece impostare 600 in modo da avere il pc ottimizzato automaticamente circa ogni 10 minuti. Abbiamo infine una riga estremamente interessante che concerne la cosiddetta esclusione dei processi. Che cosa significa esclusione dei processi? Che se c'è un qualche processo ad esempio un gioco che stiamo utilizzando e che non vogliamo che venga penalizzato in alcun modo potremo ottimizzare tutto quanto il computer ad esclusione proprio di quel gioco oppure di quel programma. Supponiamo ad esempio di voler escludere Chrome da questa ottimizzazione. Per farlo dovremo utilizzare questa sintassi. Digiteremo il tasto pipe ovvero quello che si trova a sinistra del numero 1 sulla nostra tastiera seguito dal nome del processo che vogliamo escludere e quindi un altro tasto pipe. Nel momento in cui i processi dovessero essere più di uno potremo inserire successivamente utilizzando la stessa esatta metodica anche il nome dell'altro processo. Ecco fatto. In questo esempio che ho voluto fare nel momento in cui dovessimo andare ad effettuare l'ottimizzazione sia in maniera automatica sia in maniera manuale Chrome e Explorer non verranno interessati e potranno continuare ad utilizzare tutta la memoria che vogliono. Importantissimo dopo che avremo effettuato le nostre modifiche naturalmente cliccare sul pulsante applica opzioni in modo da rendere effettive tutte quante le modifiche che abbiamo fatto. Una domanda lecitissima a questo punto potrebbe essere ma è meglio questo programma oppure altri che hai presentato in precedenza come ad esempio MemRedact oppure Wise Memory Optimizer? Ebbene non ho dubbi ed è proprio il motivo per cui ho voluto presentarti anche questo programma che nelle prove che ho fatto e sui sistemi su cui l'ho utilizzato si è comportato decisamente meglio rispetto ai suoi chiamiamoli predecessori. Tutto questo senza considerare il fatto che va perfettamente a braccetto anche con altri programmi come CPU Balance oppure Process Lasso che possono essere usati insieme migliorando decisamente le performance del sistema. Ed ecco a te un'altra mandracata ma veniamo subito ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono complicati come non mai infatti probabilmente mi vedrai leggere un pochino più del solito perché non voglio dimenticarmi nessun nome e devo dare il benvenuto a Francesco D'Agostino, Alessio Mariani, Presepi Aldo Massetti, a Riccardo Ceccarani, a Resi59 Supernic in arte Nicola, a Massimo Ceselli, ad Antonio Scano, a Gianfranco Pirovano e a Tony Marino per essere entrati di diritto nella community dei gentiluomini perché infatti si sono abbonati al nostro canale quindi vi ringrazio infinitamente per il vostro supporto ma un ringraziamento super specialissimo è rivolto a Elia De Luca, Denvito85 e Daniele Segalla che si sono sia abbonati ma in qualità di distinti gentiluomini e quindi cari ragazzi nel darvi il benvenuto mi tolgo anche il cappello farlocco davanti a voi ma non abbiamo finito infatti dobbiamo ringraziare anche Guido B, Sergio Colle, Davide Barraco, Angelo Galasso, Alessandro Olmo, Maurizio Fazio, Roberto Zazzini di Parma lo ridico l'ho detto male Roberto Zannini di Parma, Pennatino e a Sergio Bartolozzi per i loro generosissimi super grazie ringrazio infinitamente tutti voi ragazzi per il vostro supporto a questa community che da certi punti di vista mi ha anche commosso per quanto è stato numeroso e soprattutto caloroso ma non dimentichiamoci mai dell'ultimo ringraziamento e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia piacevolmente nel corso di questi minuti e detto questo come di consueto non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima